Dica signora. Mio padre ha subito un'aggressione in ascensore. Anziano suo padre. Anziano, sì sì, sicuramente anziano. Quindi è stato seguito da un extracomunitario che con il piede ha bloccato la porta e quindi poi ha messo in pericolo. Ma ancora sono in giro? La situazione qui è veramente, mi permetto di dire, drammatica. Siamo veramente in pericolo e c'è bisogno di ripristinare la legalità. Quindi voi vorreste più forze dell'ordine, più controllo del territorio? Guardi direttore, io quello che penso è che si sta facendo di un caso, di una questione nazionale. Cioè sembra che questi signori stanno con l'elmetto, con il giubbottati proiettivo. Lei fa presto a parlare perché non è qua. Ma andate nelle altre città. Cortesemente faccia parlare anche me, non parli solo lei. Faccia parlare anche me. Allora senta, la situazione è veramente drastica. Perché anche a Manfredonia i pensionati non sono più padroni di andare a prendere la pensione. Perché le ragazze, anche i ragazzi vanno fuori, li aspettano fuori e li aggrediscono. È una cosa assurda. Noi siamo ospiti del nostro paese. Certo non per colpa nostra.